allora oggi come avevo detto vediamo questo argomento che è un argomento carino nel senso io non è che va bene leggo moltissimi libri sull'argomento però di tanto in tanto quando mi capita così di trovarli gli do un'occhiata ecco tra l'altro poi questo argomento l'avevo già trattato mesi fa che avevo fatto uscire un pdf molto sintetico adesso beh vi leggerò così giusto un'introduzione ovviamente non vedremo tutte le pietre le gemme una per una a meno che poi qualcuno comunque non ne cerchi una in particolare quindi poi non mi scriva sotto nei commenti che cosa cerca in particolare vi leggerò giusto un'introduzione così storica giusto per dare per sapere un po ecco anche su questo argomento intanto vi faccio vedere anche il libro che ho trovato oggi ecco l'ho trovato proprio in offerta ecco offertissima tra l'altro poi come ho detto tante volte se qualcuno cercasse comunque delle guide su questo argomento ecco in realtà se riesce a venire nella mia città può trovare tipo queste guide le mettono tipo a un euro tre euro per dire poi come vedete cioè praticamente sono libri sono libri nuovissimi quindi ecco se qualcuno in realtà non volesse perché in realtà poi questi libri qui se andate a comprarli nelle librerie ecco li pagate sempre un sacco perché per dire se lo andate a comprare in una libreria tipo lo trovate a 11 euro per dire mentre invece se andate se venite a prenderlo appunto nel mercatino dell'usato che c'è nella mia città tipo questi libri li trovate a un euro tre euro quindi se qualcuno fosse interessato me lo fa sapere così magari organizziamo ecco per dire perché credo ne ne valga veramente la pena per dire con tipo con un euro due euro vi fate vi fate praticamente una biblioteca tema su queste cose allora adesso vi leggo l'introduzione ecco per quanto riguarda questo discorso delle pietre preziose ecco perché così è un argomento carino le gemme sono un prodigio della natura hanno colori vivaci forne stupende luminosità trasparenza riescono a conservare intatto un fascino misterioso che eccita la nostra fantasia mentre osserviamo una gemma non possiamo dimenticare che prima di affermarsi come oggetto di desiderio ornamento investimento i gioielli nascono come talismani i nostri lontani antenati già all'epoca della pietra usavano le gemme come amuleti e a esse attribuivano poteri soprannaturali nel libro dei morti egiziano vengono citati i più antichi talismani di cui si abbia conoscenza fra i quali si ricordano lo scettro del papiro un prezioso amuleto costituito da uno smeraldo che garantiva al defunto una nuova vita oltre alla morte e un amuleto del cuore di lapislazzulo che infondeva pace e benessere a chi lo indossava altro talismano egizio ritrovato spesso all'interno delle mummie è quello delle due dita l'indice al medio scolpiti nell'ossidiana e nelle matite indicavano al defunto la via dell'ascesa e la pace eterna l'uso dell'ammuleto era molto diffuso in Egitto ma anche presso gli antichi popoli della Mesopotamia sumeri, babilonesi, assiri e caldei usavano incidere cristalli di rocca topazzi, agate e di aspri con segni magici e stemmi personali per assicurarsi la protezione divina i persiani scolpivano figure umane in pietre dure e le indossavano come portafortuna in Messico e in Tibet la turchese veniva considerata una pietra divina capace di mettere in comunicazione l'uomo con entità superiori in Cina si abbia un vero e proprio culto della Giada la cui lavorazione risale a 4.000 anni fa le gemme non hanno minore importanza nella tradizione ebraica e in quella cristiana la Bibbia descrive miniziosamente le dodici pietre sacre cornalina, topazzo, esmeraldo, rubino, zaffiro, diamante, giacinto, agata, ametista, crisolito, sardonice e diaspro incastonate nel pettorale orazionale del grande sacerdote Aaron e nelle catacombe romane sono stati ritrovati diversi tipi di gemme incise secondo un'antica leggenda cristiana anche il santo grale era all'origine un grosso smeraldo grezzo che cade dalla fronte di Lucifero quando venne cacciato dal paradiso furono gli angeli a raccogliere la gemma e intagliarla a forma di coppa risale invece a un'epoca più recente il primo trattato di gemmologia che la storia ufficiale ricordi si tratta della Naturalis Historia di Plino al Vecchio redatto in 37 volumi dei quali gli ultimi 5 descrivono le pietre preziose e le loro virtù magiche e terapeutiche più avanti nel tempo studiosi del Medioevo quali il monaco dominicano Alberto Magno fecero importanti ricerche sull'uso dei cristalli a scopo curativo e proprio in questo periodo iniziarono a diffondersi le credenze popolari che attribuivano le gemme a poteri occulti tra l'altro Alberto Magno io l'ho trattato da un punto di vista teologico sull'altro canale era un misogino e poi è stato l'istruttore di Tommaso d'Aquino di cui poi praticamente ha preso tutta la misoginia che comunque era già presente in Alberto Magno le pietre divennero oggetto di studio al tempo stesso protagonista di fantasiose leggende scienze e magia delle pietre si confusero una nell'altra aumentando il fascino dei cristalli un fascino misterioso che ancora oggi l'uomo tenta di penetrare recuperando le antiche conoscenze cercando di convalidarle alla luce della moderna analisi scientifica allora niente questo era giusto per dare un breve riassuntino storico così per farvi vedere che comunque persino nella Bibbia sono citate le pietre ad esempio è il caso proprio del pettorale del sacerdote ebraico che era tutto un pettorale che loro si mettevano qui davanti tutto ricolmo di gemme erano tutte disposte queste gemme mi pare in quattro file di tre se non ricordo male per un totale di dodici se non ricordo male se lo mettevano qui davanti praticamente sul petto per dire quindi uno magari non penserebbe che addirittura nella Bibbia è attestata questo uso magico, questo uso talismanico delle pietre in realtà però è così niente ve l'ho letto giusto per dare un'idea un po' così ribadisco poi qui ovviamente l'autrice ha messo tutti i tipi ecco corallo, calcedonio, avventurina ne faccio magari vedere qualcuna per dire ovviamente l'autrice li ha elencati tutti ecco, vabbè ovviamente adesso noi non li vedremo nel senso se qualcuno magari interessa un nome in particolare me lo può chiedere, me lo lascio sotto come commento che gli faccio volentieri la videolettura altrimenti ecco l'argomento lo concludo qui se poi magari riesco a trovare comunque qualcos'altro ecco di carino ve lo leggerò senz'altro perché comunque sono argomenti che di tanto in tanto va bene trattare tra l'altro poi questo argomento qui è stato trattato anche nel libro di Laura Rangoni che ho qui l'ha trattato anche lei come vedete quindi magari ecco vi farò anche la videolettura per quanto riguarda quello che ha scritto Laura Rangoni giusto per dare un'idea tra l'altro ecco colgo occasione di dirvi se qualcuno lo volesse questo libro qui l'ho visto in vendita oggi a un euro l'hanno messo a un euro al mercatino dell'usato non è in buonissime condizioni nel senso che ha tipo la copertina un po' rovinata però io dico se qualcuno comunque lo volesse come poi ho detto questo libro qui io ve lo consigliavo rimando alle vecchie videoletture che avevo fatto ecco su di commento critico a questo libro se qualcuno se lo volesse se lo volesse trovare leggere ecco allora originale comunque lo pagate 7,50 euro se volete risparmiare al mercatino della mia città al mercatino dei libri dell'usato lo trovate a un euro l'hanno messo in vendita a un euro quindi se qualcuno ecco nel fine settimana può venire qui me lo fa sapere prima ovviamente li accompagno io con piacere nel senso per me anzi è un modo giusto per stringere amicizia per comunque per condividere queste cose se qualcuno appunto volesse trovarlo a un euro ecco l'ho proprio visto in vendita oggi l'hanno messo lì a un euro quindi per dire se volete fare l'affare pensateci eh niente vi saluto e vi ringrazio spero che i video siano stati interessanti e vi saluto alla prossima analisi vi saluto a tutti iideri grazie a tutti ieri vi saluto a tutti ieri vi saluto a tutti ieri Grazie.